Si è conclusa ieri in piazza Duomo a Messina la terza edizione della Befana dei Vigili del Fuoco. Già dalle 9 del mattino i partecipanti hanno trovato alcuni mezzi speciali ad attenderli di fronte alla cattedrale. Autoscala, autogru, autopompa serbatoio, mezzi nautici e altre attrezzature dei Vigili del Fuoco in bella mostra. I partecipanti hanno potuto così visitarli e fotografarli da vicino. I più piccoli, di età compresa tra i 3 e i 12 anni, hanno partecipato a Pompieropoli, cimentandosi in un circuito che prevede la discesa della pertica, una prova di equilibrio percorrendo una trave, l'attraversamento di un cunicolo, vari ostacoli tra cui un ponte tibetano e la salita su una scala a portafogli. Al termine del percorso in cui era prevista la simulazione di incendio di una casa, i piccoli pompieri hanno estinto le fiamme prodotte con fumo artificiale e hanno quindi ricevuto il diploma di Pompiere Junior. Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco, assieme ai volontari dell'associazione ABC, Amici dei Bimbi in Corsia, hanno visitato i piccoli degenti dei reparti pediatrici del Policlinico Universitario di Messina, consegnando loro sorrisi e doni, accompagnati ovviamente dalla Befana.